Matteo Cioffi, grazie di essere qui con noi. Sei stagista a Stolten Light in quest'anno e sei italiano, ma l'altro giorno, mentre che stavamo insieme con tutta l'equipe, ci hai sconvolto con questo grande annuncio, sì, sono italiano, ma sono romano. Allora, mi ha fatto pensare, sarebbe una bella intervista con te. Chi è Matteo Cioffi? Intanto grazie della proposta e dell'invito, perché è un piacere poter condividere alcuni pensieri qui con lei. Come ha detto, sono italiano, ma sono romano. E che è la differenza? Non capisco. Eh, la differenza in realtà è il fatto di essere comunque nato nella capitale, ma in una città che comunque è una città diversa dalle altre, per tanti motivi. Anche perché comunque è la città del Vaticano, perché è la città in cui appunto risiede il Papa e poi perché ovviamente è una città, a mio avviso, meravigliosa. Ma non dico questo perché sono romano, perché spesso sono critico con la mia città, perché mi dispiace vederla magari in una cattiva condizione, con un po' di degrado. Quindi sono anche severo nei giudizi, però è fantastica. Allora, si può dire che Roma si chiama Caput Mundi, da noi si può dire The Big Apple del mondo. Ma che significa Roma, l'importanza di Roma? Oltre il fatto di essere il centro della Chiesa Cattolica, che significa, che importanza ha Roma per il mondo? Innanzitutto c'è una curiosità che va detta. Roma è una delle poche città, forse l'unica città importante, che leggendola al contrario significa un'altra cosa. Significa amor. E non è, credo, una cosa così casuale, che significhi Roma, ma anche amor. È una città che comunque è appunto il centro del mondo, secondo me, dal punto di vista culturale. E questo è un privilegio, perché fa sì che, anche se magari una persona non vuole, però è costantemente stimolata e motivata a conoscere, a capire, perché sei circondato dalla storia, dalla cultura, dall'arte, dalla bellezza. E quindi sei stimolato ad approfondire, a capire quello che significa questa città, quel monumento, questa piazza. E sono tutte cose che, appunto, secondo me... Ma si può dire anche in mezzo a tutte queste antichità che c'è una cosa positiva, un lato positivo, un lato negativo. Potremmo essere prigionieri del passato o potremmo prendere questo passato come ponte verso il futuro. Come vedi tu questo? Siamo un pochino prigionieri del passato. Anche nelle cose pratiche, ad esempio, i lavori per la metropolitana subiscono continui rallentamenti, perché ogni volta che vengono fatti dei buchi, degli scavi, si trova sempre qualcosa. Qualche cosa archeologica. Sì, è la Roma del passato che emerge e che non finirà mai probabilmente di emergere. Questo fa sì che si è prigionieri perché poi quelle cose rallentano magari lo sviluppo della città, il renderla magari sempre più funzionale. Però è difficile. È bello, ma talvolta è una condanna. Però, insomma, secondo me è più bello che una condanna. Vale la pena. Vale la pena. Allora, tu hai detto l'altro giorno, mentre che stavamo tutti insieme come l'equipe, hai parlato di Roma chiesa. E hai detto una cosa che tutti erano molto colpiti. Hai parlato del tuo vescovo. Noi quando parliamo del vescovo di Roma, parliamo sicuramente del Papa, il Santo Padre. Tu hai detto, no, 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 lui è prima di tutto vescovo di Roma, è mio vescovo. Allora, questo rapporto con il vescovo di Roma e poi i cittadini di Roma, i cattolici di Roma, spiegami un po'. Sì, è una cosa curiosa, ma è appunto uno dei privilegi di essere nato a Roma e di vivere a Roma. Tu hai considerato, per esempio, Giovanni Paolo II tuo vescovo. Certo. E poi Papa Benedetto tuo vescovo e adesso Papa Francesco il vescovo del mondo. Sì, 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 ma è appunto questa differenza che può sembrare banale, ma in realtà è così. Nel senso, come dicevo l'altro giorno durante il meeting, per tutti voi, per chiunque, anche per gli italiani, per gli altri italiani, il Papa è il Papa. Però per noi, e per noi intendo Romani, è il vescovo della nostra città ed è una persona con la quale abbiamo un rapporto diverso, proprio perché è un nostro concittadino. Viviamo nello stesso posto e tante volte penso che noi abbiamo la fortuna e la possibilità di vedere il Papa ogni domenica. E tu ci vai? Sì, se io decido che domenica voglio vedere il Papa, prendo la metropolitana e vado a Piazza San Pietro e vedo il Papa. Ecco. E penso che dall'altra parte del mondo, non lo so, in Asia, nelle Filippine o in Sud America, ci sono persone che magari sperano una volta nella loro vita di poter vedere il Papa. E questo è incredibile, no? Quella notte è indimenticabile dal 13 marzo, due anni fa, 2013, quando si è apparso la prima volta alla loggia e si è identificato il Vescovo di Roma. Come ti sentivi tu? Poco tempo fa ho avuto la possibilità di rivedere quel quarto d'ora, no? Sì. Della presentazione. In effetti c'è un dettaglio che va detto, che in pochi minuti Papa Francesco nomina cinque volte Roma. Cinque volte Roma. Facciamo vedere adesso questo brano sullo schermo televisivo per ricordarvi quel momento perché siamo quasi al secondo anniversario. Vediamo un po' la presentazione al mondo di Corri Mario Bergoglio. Fratelli Sorelli, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un Vescovo a Roma, la comunità diocesana di Roma al suo Vescovo. Grazie. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che preside nella carità a tutte le Chiese, vi auguro che questo cammino di Chiesa, che oggi cominciamo e che mi aiuterà è il mio Cardenale Vicario, qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buona notte e buon riposo. La nomina cinque volte, quattro volte dice Roma e una volta dice città, intendendo comunque sempre Roma. C'è appunto il fatto che lui dice andrò a pregare la Madonna affinché custodisca la città di Roma. Quindi è un altro appunto elemento che sottolinea quello che dicevo giorni fa, ossia questo rapporto che c'è tra noi e il Papa, ma allo stesso modo tra il Papa e Roma. Infatti questo titolo, Vescovo di Roma, è uno dei titoli più antichi di presentare il ruolo del Vescovo di Roma. Torna al secondo secolo, mi sembra. Non è niente di nuovo, non è una fantasia di Francesco. No, 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 assolutamente. Ma poi c'è questo rapporto diverso che è anche sicuramente dettato dalla sua semplicità. Perché giorni fa mi è stato chiesto qual è la tua frase preferita? di Papa Francesco. E io ho risposto immediatamente, ho detto senza dubbio è fratelli e sorelle, buonasera. Perché? Perché è la frase, è la primissima cosa che dice, la dice in italiano. E comunque è sempre strano vedere la persona più importante del mondo che parla nella tua lingua, che fondamentalmente non è così parlata nel mondo. E poi perché in quella frase secondo me c'è una sintesi importante del personaggio, ossia la semplicità, il fatto di parlare facile, ma per facile non significa in una maniera banale, per facile significa parlare in un modo chiaro e che arriva a tutti. e questo è importante perché talvolta anche persone che magari non credono o che non sono interessate, però quando senti certe frasi, certi discorsi, inevitabilmente tendi ad ascoltare e quindi a partecipare a quello che viene detto. E questo secondo me è uno dei meriti più grandi, se non il più grande, che bisogna riconoscere a Papa Francesco. Parlami della tua diocesi, della tua parrocchia, la tua vita ecclesiale in questa grande diocesi, Caput Mundi. Sì, io ho avuto di fatto due chiese, due parrocchie, perché la prima parrocchia, quella in cui ho fatto la mia prima comunione, era la parrocchia vicino a casa di mia nonna, mia nonna materna, perché io ho trascorso gran parte della mia adolescenza e della mia gioventù con lei, perché durante il giorno i miei genitori erano al lavoro e quindi io passavo... Beato te, hai conosciuto i nonni? Sì, solo le nonne, ma non i nonni. E quindi andavo in questa chiesa e lì ho fatto la mia prima comunione. Però in quella appunto vicino a casa mia, a casa dei miei genitori, ho cominciato a frequentarla perché all'età di otto anni sono diventato Boy Scout. Quindi il fine settimana andavo in quest'altra parrocchia, Santa Rita, e insomma con i Boy Scout hai la possibilità di entrare in contatto con la comunità religiosa, cattolica, secondo me nel modo più bello per un bambino, perché hai la possibilità di divertirti, di giocare, però all'interno comunque di un certo gruppo. E questo fa sì che tu possa crescere, cominciare ad avvicinarti alla comunità nel modo migliore, divertendoti, conoscendo, imparando, andando insomma la domenica mattina alla messa delle nove. Quindi ho avuto da una parte la fortuna di poter vivere due diverse parrocchie. E comunque è sempre bello, insomma. Per essere cattolico praticante alla tua età, che cosa della chiesa ti attira? Che cosa trovi nella chiesa? Perché dobbiamo dire che non molti della tua età sono dentro la chiesa, invece tu hai la chiesa al cuore. Perché? Beh, innanzitutto, vivo in un paese strano da un punto di vista. Forse è l'unico posto al mondo in cui esiste una frase che è credo ma non pratico. Ed è una cosa stranissima, perché è un non senso. Significa credo, però poi non prego, non vado alla messa, non mi interesso. Ma come mai che tu preghi e tu credi? Innanzitutto perché ho avuto comunque la possibilità e la fortuna di essere di essere stato educato in un certo modo, soprattutto da mia nonna, come dicevo. e poi perché comunque sono sempre stato attirato dal concetto comunque di comunità. Di comunità nel senso di poter condividere con altre persone alcune cose, come ad esempio la fede religiosa. E quindi quando hai avuto magari degli input, fin da piccolo, con i boy scout, con una educazione in un certo tipo, e poi dentro di te hai in maniera quasi involontaria questo senso di condivisione, di appartenere a un qualcosa, credo che queste cose sommate poi rendano tutto semplice e quasi automatico di fatto. Non c'è nemmeno quasi un momento in cui si sceglie, no? Perché ti sembra tutto abbastanza naturale e una conseguenza dopo l'altra. Parlami della tua famiglia. Ah, la mia famiglia... Siamo tutti italiani. E questo è strano. Romani o italiani? Tutti italiani, tutti italiani. No, è strano perché appunto qui in Canada è difficile trovare qualcuno, no? Che ha tutta la famiglia canadese. Oralana. Qui invece, ecco, quindi è strano quando io penso che tutta la mia famiglia proviene solo da una nazione. Mia madre però è nata a Genova. Mio padre è a Roma. E io però ho parenti un po' sparsi in tutto il paese. Quindi sono italiano dal nord, dal centro e dal sud. Sono figlio unico. Quindi ho avuto da un punto di vista la fortuna di avere tutto l'affetto per me. però allo stesso modo, insomma, sono particolarmente grato ai miei genitori perché mi hanno dato tutto, però a mio avviso sempre nel modo giusto. Mai troppo, mai troppo poco. Per questo, insomma, sono particolarmente grato a loro. Che tipo di studi hai fatto? Ho studiato al liceo scientifico, le mie scuole superiori appunto al liceo scientifico, e dopo sono andato all'università. L'università, un'università pubblica, l'università di Roma Tor Vergata, che non è la più importante a Roma, però per me era anche quella più vicino a casa. Soltanto quattro chilometri, quindi era veramente molto comoda per non andarci. E lì ho studiato lettere, lettere moderne. Come dicevo prima, è comunque un privilegio poter studiare la letteratura, la storia, la storia dell'arte, la linguistica, in un paese come l'Italia e in una città come Roma. Perché hai poi la possibilità di studiare certe cose sui libri, ma allo stesso modo poi hai la possibilità di prendere la macchina, andare in centro e vedere esattamente quello che hai studiato. E quindi ho studiato cinque anni, la laurea triennale, la laurea magistrale, insomma, in un bel posto, ho conosciuto tante persone che poi sono diventati i miei migliori amici ed è stato sicuramente un periodo molto bello, quello dell'università. Dopo, perché il mio sogno è sempre stato quello di fare giornalista, fin da quando ero bambino. Ho studiato appunto alcune cose all'università per quello e poi finita appunto l'università ho fatto le prime esperienze in televisione, ho iniziato a scrivere per diversi siti e poi sono andato all'estero perché era un'esperienza che volevo fare. Pensavo di partire solo una volta, poi in realtà sono partito una volta, due, tre e chissà quante altre magari. Ho studiato appunto in Irlanda, ho collaborato per il giornale, insomma, cattolico più importante di Irlanda. La domanda che tutti i telespettatori forse stanno chiedendo, come mai che un giovane romano dall'Italia si è trovato qui adesso con noi a Salted Light? Perché la vita fondamentalmente è strana, perché talvolta certe cose sembrano molto complicate, altre volte invece sono fin troppo facili, perché proprio lo scorso ottobre in occasione del sinodo c'era il mio vecchio direttore dell'Irish Catholic a Roma e mi ha detto questa sera c'è una cena, vieni anche te. Va bene, vengo anche io e durante questa cena ho conosciuto la persona che mi sta intervistando. E poi insomma è tutto una cosa dopo la vita. Si può dire che le vie della providenza. Sì, anche perché poi eravamo a Borgopio, quindi evidentemente c'era qualcosa. Allora spiega un po' ciò che stai facendo un romano in mezzo a tutti noi canadesi, da 14 paesi infatti, cosa fai in mezzo al nostro equip? Innanzitutto devo dire che una delle cose più interessanti e più bella è il fatto di poter stare all'interno di una redazione comunque estremamente internazionale. E quello è la cosa comunque più bella perché c'è un continuo scambio di informazioni, di culture e quello è fantastico. Attualmente appunto collaboro con il Marketing e Communication Department, quindi sono insomma a supporto dell'area del Marketing e della Comunicazione e mi occupo del palinzesto della televisione, di aggiornare comunque il nostro sito che è comunque un punto di riferimento importante e dal blog appunto ai video, ai vari portali che ci sono, no? Caricando i video che vengono appunto prodotti. Quindi, poi insomma, piano piano... Quale è l'importanza? Perché tu conosci qualche televisione cattolica, hai visto un po' in Italia, per esempio, SAT 2000, Televisione 2000, Telepace, poi in altri paesi, ma c'è una piccola differenza, no piccola, una differenza maggiore qua, che i protagonisti sono tutti giovani adulti. Questo che cosa significa? Tu vedi qualche cosa in questo mezzo di comunicare? Sì, sicuramente. Da una parte sono contento, dall'altra parte la mia parte italiana in realtà è un po' più triste perché vedo come dalle altre parti ci sia modo per i giovani comunque di potersi esprimere, di avere opportunità, mentre da noi non è una cosa così facile. Facile. Sembra sempre la solita cosa, però è la realtà. E penso che comunque il fatto che i giovani possano parlare sia interessante, non perché io sia giovane, ma perché comunque inevitabilmente hanno un punto di vista diverso. Non significa migliore o peggiore, però è diverso. Perché sono magari nati in un'era diversa, sono cresciuti con altri mezzi e quindi vedono le cose in un altro modo. Non significa fare qualcosa solo con i giovani, però significa integrare il tutto anche con i giovani, perché sicuramente possono contribuire e dare una chiave di lettura diversa. Torniamo a parlare del tuo Vescovo, Papa Francesco, che è una cosa molto cara a te. I segni che sta dando al mondo adesso, i simboli, i gesti, le parole, che importanza ha per il mondo? Perché credo che potremmo dire dopo due anni di papato adesso del Ministero Petrino che Francesco è il leader per tutto il mondo, non soltanto per la Chiesa. Che messaggi trovi tu interessanti? Sicuramente in due anni si può tracciare un primo bilancio e il bilancio è estremamente positivo, perché comunque, proprio attraverso il suo modo di comunicare, comunque riesce ad attirare l'attenzione, ma nel modo positivo. Io credo che lui sia riuscito a stabilire un rapporto di empatia e per empatia intendo non soltanto l'andare verso l'altro, ma andare verso l'altro e attirarlo verso sé, tirarlo dentro, nel senso proprio di empatia. E questo è fondamentale, perché quando si riesce comunque ad abbattere certi muri, alcuni vincoli, tutto diventa più facile. Si riesce a trasmettere veramente qualcosa. E la sua capacità comunicativa, a mio avviso, è comunque il merito più grande, senza voler togliere il merito a altre cose, però io me ne rendo conto, proprio perché appunto vivendo a Roma me ne rendo conto di come venga vissuto, con tutto il rispetto per Ratzinger, per Benedetto XVI, che nei suoi otto anni ha comunque fatto tante cose, e tra 50 anni, 100 anni lo ricorderemo comunque per aver cambiato la storia. Sarà dottore della Chiesa, sono convinto. Un grande, veramente un grande, Carlo Ratzinger, Papa Benedetto. Però certamente lui ha avuto la sfortuna, chiamiamola così, di essere il successore di Papa Voitiua. Allora, parlami di questo. Sì, questo è sicuramente... Io ricordo, avevo 18 anni, era il 2005, quando appunto Papa Voitiua è morto. e ricordo quei giorni come il grande dolore che era vissuto e veniva condiviso da tutti. In tutto il mondo. Da tutto il mondo. Ma io ricordo proprio le veglie a Piazza San Pietro e ricordo anche il modo in cui poi appunto Ratzinger venne accorto. con gioia, però c'era ancora dietro troppa tristezza. Perché facendo un paragone molto semplice, è come se dopo una lunga storia d'amore, durata tanti anni, è difficile poterne iniziare subito una altrettanto importante dopo una settimana. È quasi impossibile a livello umano, no? E credo che lui inevitabilmente abbia pagato il fatto di essere il successore di Voitiua, di avere comunque questa ombra. Questo peso. Questo peso. Il peso appunto, la responsabilità di essere il suo successore. otto anni dopo, per Bergoglio è stato diverso, inevitabilmente. Perché comunque c'è stato quel periodo di mezzo e la gente ha cominciato a essere sicuramente, insomma... E la differenza anche è che non c'era funerale. Sì, assolutamente. Non c'era funerale. Assolutamente. È la prima volta appunto che c'è la possibilità di festeggiare, celebrare l'elezione di un nuovo Papa senza la tristezza di aver perso quello precedente. Quindi ecco, probabilmente era fin dall'inizio un buon viatico, un qualcosa di diverso, no? Avvicinarsi a questo nuovo percorso comunque con una gioia, con una serenità diversa. E poi comunque sì, certamente è stato accolto fin dall'inizio nel modo migliore. Questa, ecco, è un'altra cosa molto italiana, forse anche molto romana, nel fatto che secondo noi il Papa dovrebbe essere sempre italiano. Forse perché c'è una lunga tradizione di pavi italiani. E questo è italiano, ma non è italiano. Sì, però ecco... È stato un grande ponte, un pontifex veramente, perché è italiano d'origine, sangue, ma è questo spirito latino, latino-americano. Infatti io ricordo la mia... Perché ricordo la mia emozione, no? In quel momento speravo che fosse italiano. Quando ho visto che era argentino e poi insomma ho letto il nome, ho letto la storia e ho detto va bene. Va bene, tu accetti. Va bene. Comunque ha del sangue italiano, i nonni, i bisnonni italiani, quindi va bene. Sì, è un'altra caratteristica appunto del fatto di essere italiani e romani, questa... Quasi l'obbligo che il Papa debba essere italiano, perché appunto lo viviamo come uno di noi. Matteo Cioffi, io vorrei ringraziarti perché credo ciò che hai portato da noi a Salt and Light in questi ultimi mesi è una grazia, che sei italiano, ma sei romano, sei credente, sei praticante, un giovane che ci dà molta speranza. E tu aggiungi a questo equip questo spirito internazionale e ti ringrazio davvero. Grazie, grazie mille. È stato un grande piacere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.